yuki a tutti ben ritrovati sul canale oggi ragazzi grazie a konami sono qui per portarvi in anteprima l'analisi di un nuovo archetipo che uscirà in difo il mazzo in questione è terion mazzo che si basa sulle vocazioni speciali da cimitero e l'equipaggiamento di carte ma detto questo andiamo ad analizzare le varie carte come primo mostro che assomiglia molto a un sirenide abbiamo terion mietitore fum questo mostro è un livello 7 acqua e posso utilizzare ognuno dei seguenti effetti una volta per turno posso scegliere come bersaglio un mostro terion e un mostro acqua nel tuo cimitero evoca specialmente questa carta dalla tua mano e se lo fai equipaggia quel mostro a questa carta come secondo effetto durante il turno del tuo avversario effetto rapido posso scegliere come bersaglio una carta terion nella tua zona carta maggiore trappola e una carta controllata dal tuo avversario falle ritornare in mano un mostro terion equipaggiato con questa carta guadagna 700 d'attacco inoltre può attivare il secondo effetto sopraindicato come se fosse terion mietitore fum in parole povere questo sarebbe diciamo il dispositivo di salvataggio obbligatorio del mazzo più che altro essendo livello 7 acqua sinergizza bene con sirenide tanto noi mostri acqua al cimitero ce l'abbiamo sempre evochiamo questa special tiriamo abismegal così possiamo sfruttare roba ad esempio come numero 11 come secondo mostro di attributo luce abbiamo terion duca iul questa volta di livello 8 l'effetto dice posso utilizzare uno dei seguenti effetti di duca una volta per turno puoi scegliere come bersaglio un mostro terion e un mostro psico nel tuo cimitero evoca specialmente questa carta alla tua mano ed equipaggia quel mostro a questa carta questo effetto da come avete visto anche il mostro prima è costante in tutte le carte inoltre mentre controlliamo una carta equipaggiamento i mostri terion che controlli non possono essere distrutti dagli effetti delle carte dell'avversario diciamo che è una carta onesta perché comunque alla fine il mostro è sempre equipaggiato quando entra poi come terzo effetto anche questo costante per tutti i mostri dice che un mostro terion equipaggiato con questa carta guadagna 700 di attacco inoltre guadagna il secondo effetto soprano indicato come se ci fosse terion duca iul come terzo mostro abbiamo terion giglio borea anche questa volta di livello 8 però di attributo vento e di tipo pianta questa carta oltre ovviamente ai soliti effetti che hanno tutti i mostri terion afferma che posso mandare una carta dalla mano o terreno al cimitero e posso aggiungere una carta magia o trappola terion dal deck alla mano carta a mio parere molto interessante perché effettivamente ci sono magie forte all'interno del mazzo esempio carica terion che andremo a vedere dopo come prossimo mostro abbiamo terion toro hain mostro fuoco livello 7 guerrier l'effetto specifico dice posso scegliere come bersaglio una carta terion che controllo e una carta controllata dal mio avversario e distruggerle praticamente fa la stessa cosa di fum ma questo spacca come ultimo mostro abbiamo terion re regulus anche questo livello 8 di attributo terra e di tipo macchina carta a mio parere molto forte in quanto sarebbe effettivamente il neghino del mazzo in quanto quando il mio avversario attiva una carta o un effetto posso mandare una carta mostro terion dalla mano dal terreno scoperto al cimitero e annullare quell'effetto inoltre è anche un 2008 quindi un bel bestione da buttare giù passando adesso alle carte magia iniziamo con la carta magia terreno discolosseo terion l'effetto di questa carta dice quando viene attivata puoi aggiungere un mostro terion dal deck alla mano quindi già si parte di sarcino una volta per turno se un tuo mostro sta per essere distrutto in battaglia puoi invece mandare una carta terion o un sistema agromotore infinito dal tuo deck al cimitero in più sempre una volta per turno quando un mostro viene distrutto in battaglia o mandato al cimitero puoi scegliere come bersaglio un mostro terion dal cimitero aggiungilo alla tua mano ovviamente posso attivare un discolosseo per turno carta niente male per il mazzo più che altro perché mi permette di risarciare le carte dal cimitero cosa non scontata soprattutto perché ci sono carte che mi obbligano a scartare carte dalla mano e almeno così non rischio di farmi solo dei meno passiamo adesso alla seconda magia sistema argiro motore infinito l'effetto dice manda una carta terion dal deck al cimitero se questa carta è nel tuo cimitero puoi scegliere come bersaglio una carta terion nel tuo cimitero se entrambe sono ancora nel tuo cimitero aggiungi quella o questa carta alla mano e se lo fai metti l'altra in fondo al deck puoi utilizzare solo un effetto di sistema argiro motore infinito per turno e solo una volta per quel turno carta a mio parere enorme perché è una foolish potenziata non fa solo mostri ed è persino un sercino quando sta al cimitero e per concludere con le magie abbiamo caricaterion l'effetto dice manda una carta terion eccetto caricaterion o i sistemi argiro motore infinito dalla tua mano o una tua zona carte magia trappola scoperta al cimitero e posso pescare due carte posso attivare ovviamente una caricaterion per turno ovviamente sercino molto forte peccato le limitazioni su quello che devo mandare al cimitero però alla fine il reparto è comunque molto grande per quanto riguarda invece il reparto trappole abbiamo incrocio terion questa carta dice quando il tuo avversario attiva l'effetto di un mostro mentre controlli un mostro terion posso attivare uno di questi effetti annulla quell'effetto o bandisci quel mostro cosa niente male soprattutto per l'annullare inoltre e questo è molto interessante se hai un sistema argiro motore infinito nel cimitero all'attivazione può attivare entrambi gli effetti ovviamente posso attivarne uno per turno e per concludere come ultima carta abbiamo rialzati terion questa carta dice scegli come bersaglio un mostro terion nel tuo cimitero evocalo specialmente poi puoi equipaggiare un mostro terion dalla tua mano o cimitero adesso durante la main phase puoi bandire questa carta dal tuo cimitero e scegli come bersaglio due mostro terion uno sul tuo terreno e uno sul tuo cimitero equipaggia quel mostro dal tuo cimitero all'altro mostro che controlli può utilizzare un effetto di rialza di terion per turno e solo una volta per turno come carta non mi dispiace perché alla fine fa da richiamo del posseduto ed equipaggia in più se devo sfruttarla subito posso mandarmela al cimitero con la carta che fa foolish quindi alla fine è una buona risorsa detto questo avendo visto la meccanica e come funziona effettivamente attualmente si potrebbe ibridare bene a brave token che vabbè reparto fortissimo uscito in gran creator oppure con caduto di albats ed espia considerando poi che gli structure sono usciti adesso e aluber è ristampato in fantasmi del passato diciamo che sarebbe carina anche da provare oppure si può alla fine sfruttare l'effetto del tipo e buttarlo dentro qualsiasi mazzo tanto alla fine è un mostro che entra specialmente anche abbastanza facilmente detto questo ragazzi fatemi sapere voi qua sotto con un commento cosa ne pensate dell'archetipo e nel caso se lo monterete quando uscirà il prodotto ringrazio ovviamente sempre con ami che mi dà l'opportunità di portarvi in anteprima cose che siano pack opening o analisi quindi ragazzi state mesi e noi ci rivediamo settimana prossima sempre qua con un nuovo video ciao a tutti ringrazio ovviamente